Buongiorno a Piazza Dottoria, a Piazza del Vagliadero, Peccia Rosca, che è un po' fuori alla squadra del 2019, e Love, la Piazza Rosca, Giri Dottoria, a Piazza Dottoria, a Piazza Dottoria, a Piazza Dottoria. Grazie mille, ha dato il nostro Salute, a Piazza Dottoria, a Piazza Dottoria, per la scuola di tutti i giorni. Grazie a tutti. 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 2019. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.